I mammiferi sono i vertebrati più evoluti. Producono da soli il latte con cui nutrire i piccoli e la loro pelle serve anche a mantenere costante la temperatura corporea. Hanno un cervello molto grande e sono muniti di una speciale cassa di risonanza per produrre dei suoni. I mammiferi sono molto diversi tra loro, lupi, baleni, pipistrelli, elefanti, canguri, giraffe ed esseri umani. Grazie a tutti.